ragazzi ho comprato questo sistema multimediale per il mio camper è un sistema multimediale con apple carplay android auto bluetooth sistema operativo android con tutte le funzionalità di android possibilità di scaricare applicazioni mappe e tutto apriamolo su interno troviamo il navigatore molto bello con una bella fotocamera frontale il cavo per la retrocamera un jack e il suo cavo di alimentazione il sistema di gps una micro usd da 128 il manuale in inglese e i vari adesivi per attaccarlo con lo cruscotto allora vediamo insieme come funziona questo dispositivo intanto togliamo la pellicola doppia pellicola molto bello lo attacchiamo a una rete di alimentazione user chat schermo molto bello diciamo questo dispositivo è un poche parole apple carplay che si attacca al cellulare tutte le applicazioni molto attaccioni molto attrattivo molto veloce diciamo che ha comprato anche la gamma il top di gamma con 4 giga di ram 64 giga di rom con la micro usd da 128 il play store tutte le sue applicazioni google maps questo per attaccarlo al cellulare la sua fotocamera molto devo dire molto ben visibile molto bella alla possibilità di far uscire l'audio direttamente dal dispositivo dal cavo aux dalla radio o via bluetooth questa cosa è molto buona perchè puoi anche collegare il telefono al dispositivo e far uscire l'audio dalle casse il sistema di navigazione android auto le notizie delle 12 buona giornata da imma baccelliere le notizie delle 12 buona giornata da imma baccelliere sono partite le notizie comunque abbiamo le chiamate abbiamo i messaggi abbiamo tutto molto buono mi piace come dispositivo niente non ci resta che attaccarlo sul camper e provare come funziona siamo fermi attacc zas provi e allora